E' incredibile come nell'episodio precedente io abbia preso per i fondelli gli zombie e poi abbia rischiato miseramente di creparci in miniera Se vi siete persi il secondo appuntamento ragazzi trovate il link qua sotto in descrizione e continuate a sostenere la serie Spolliciatevi un po' so come te e sghiate la campanellina Io vi auguro una buona visione Bene ragazzi questo è qui e bentornati nel terzo episodio della nuova serie principale di minecraft Siamo ancora qua e dove potremmo essere altrimenti sono circondato dagli zombie raga aiuto Adesso con molta calma visto che abbiamo delle rotte in flash a disposizione Noi designiamo, recuperiamo un po' di cuoricini e poi decidiamo se ammazzare tutti quanti oppure no Ho 39 pezzi di ferro e farei di tutto in realtà per non perderli Con calma Salve Oddio ma c'era il cadavere di uno zombie a fuori ma che è successo? Si sono spaventati hanno capito che in realtà sono il più forte in assoluto che non aveva senso sfidarvi Nei commenti si sono create due fazioni Chi dice che costruire lungo l'oceano faccia schifo e chi invece lo adora? Io adesso sono leggermente combattuto non so che cosa fare Torniamo dove ci hanno fatto cadere Però il ferro è sicuramente molto utile Ehi là Ma cosa vuoi? Disgraziato Incredibile ma quanti siete? Una roba vergognosa Che c'è ancora l'enderman Teoricamente dovrebbe essere il posto semplice Oh Oh no 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 Sei matto Tu sei matto Oh mio dio Oh mio dio Ho rischiato davvero così tanto per cosa per picchiare un enderman a che scopo Che fin troppo pericoloso abbiamo rischiato di lasciarci le penne nel vero senso della parola Forse è ufficialmente giunta la rosa di tornarsi nel casa ho appena finito la mia ultima rotta in flash Però c'è della lava qua la lava è sempre molto interessante Visto che però qua c'è la lava faremo un collegamento che ci riporta esattamente fin qua giù Sento ufficialmente le streghe vuol dire sono fanno i paraggi non dovrebbe essere notte fuori o si No 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 are you serious man what are we talking about no 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 raga oddio non è che muoio vero rimango mezzo cuore in teoria oh mio Dio È una situazione decisamente critica in questo momento non abbiamo cibo a disposizione E abbiamo mezzo cuore e non possiamo recuperare la vita che vuol dire che dobbiamo stare molto Molto attenti raga molto attenti Ho rotto il piccone Con calma perché puoi farcela stefano ti cucini un po di ferro e ti fai altri due picconi Per tornare su con mezzo cuore aiuto mi devo necessariamente cacciare in queste situazioni Meschine dalle quali poi manco riesco a venire fuori a volte direi di fare un'armatura ci Facciamo gli stivalettini vai così alla grande così piedi sono protetti adesso aspettiamo a questo punto direi di fare anche l'elmetto E i pantaloni Oh 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 Houston 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 we got a problem C'è l'acqua c'è l'acqua vuol dire che siamo sotto l'oceano però ci siamo quasi Vediamo un po' pantaloncini e il metto possiamo fare entrambe le cose Ti è così siamo full Devo stare molto attento superficie sembra giorno Il che vuol dire che non dovremmo preoccuparci chissà quanto Spacchi un attimo qua sali su ok vai ste vai oh oh mi sono bloccato mi sono bloccato sali 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 Meraviglioso siamo sali oh sentito una freccia no 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 Casa è sicuramente qua infatti meraviglioso quel mezzo cuore non è per niente rassicurante Sta pure piovendo che bello ma qua non piove la piove qua non piove va bene questo non è pronto vero Io non riesco a capire dalle texture nuove raga se è pronto o no Non abbiamo molte opzioni devo uccidere i pesci per forza Se prendo anche solo un mezzo danno crepo come potete ben notare quindi sbrighiamoci Manco il pesci mi hai dato oh lo stava fregando il delfino ma non sei canrivoro Cannivoro chi ha mai detto che serva una canna da pesca per pescare Quando puoi prendere a spadacciate i pesciolini alla ricerca di Nemo Alla ricerca della frittura spettrale di Stepney Però sapete che mi sta piacendo tantissimo questa cosa della pura sopravvivenza Il non avere cibo a disposizione il dover cercare di non crepare che bello Come ai vecchi tempi sto godendo come un riccio E fu così che gli arrivò una freccia in testa e Stepney morì miseramente Finalmente possiamo mangiare oddio si si torna il cuore Tornano i cuori abbiamo già 42 lingotti di ferro da parte Madonna siamo straricchi raga la serie è iniziata ora e non ci ferma più nessuno Sicuramente possiamo fare un altro salto giù nella grotta visto che abbiamo fatto il collegamento Adesso ci metterò un attimo a ritrovarlo ma lo ritroviamo subito non vi preoccupate Vediamo un po' non dovrebbe essere troppo lontano Siamo risaliti bene o male dall'addietro che c'erano tutti quanti gli animali Allora con calma perché la presenza dell'acqua è sicura Siamo risaliti tramite l'acqua ci deve essere una specie di pozzanghera qua intorno Ma per forza Qua una pozzanghera c'è E lei è lei è lei è lei ok meraviglioso Ma come si scende giù bene nella mia grotta ho fatto anche l'ascensore d'acqua che volete di più dalla vita Guarda mamma senza mani fa tutto da solo che spettacolo Allora vediamo poi abbiamo deciso di salire da quella Do 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 Fancuore Pazzo malato che non sei al E muori Ma io dico ma ti pare Mi fai prendere questi accidenti Ricordo raga che se vedete che i mob fanno tanto danno è perché siamo in hard E con due colpi di enderman per esempio Sei già gallina sei bello che è morto Ehi la Cichitos Eh, no, così non si fa però Così non si fa Bravo, bravissimo Ho colato per step Pia tutto quanto E porta a casa Mangia il pesciolino, ne abbiamo solo tre Sempre meno, livello 11 Questo è il livello dei diamanti in teoria Beh, non potranno mai essere troppo Lontani Wewewewewewe Calmi Torce, un po' dappertutto Look at this, yes Baby, holy sh** Grappy god Yeah, 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 yeah Intanto queste sono delle ragnatele Molto buone stringhe per noi Facciamo la canna da pesca Oddio che bello, che bello, ma muori tu Ma lasciami un po' in pace Stupido creeper In un batter d'occhio ci siamo portati a casa Già un bel po' di diamanti Vediamo un po', qua ce n'è Ah, uno solo, vabbè, meglio di niente Ovviamente ragazzi E ce ne sono altri due qua in bella vita Oh, 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 tu sorella Quella bella Eh no, ma quanta vita tieni L'importante è portare a casa tutti questi diamantossi il prima possibile Siamo già a cinque Molto bene Diamanti ed esplorazione Che cosa vuoi di più della vita, giovane padawan? Nada Nada de na... Ohioioioioioioioioioioioioioioioi Questo punto direi di non esagerare L'altro ancora non l'abbiamo esplorato Vorrei farvi presente questa cosa Che io poi vado avanti e mi perdo Mi perdo nei meandri delle grotte E vado troppo avanti Qui c'è un cobblestone generator naturale Ma che spettacolo è Ma guardate che meraviglia raga Questo è patrimonio dell'umanità Un cobblestone generator nato così gratis Visto che qua sotto c'è un collegamento davvero molto interessante come vedete Direi di risalire in superficie anche da qua Adesso non ha senso farlo di due mi limiterò a farlo di uno Però poi lo espanderemo per bene Purtroppo il problema del cibo e di conseguenza delle provviste non è assolutamente da sottovalutare Dovremmo provare ad ovviare il prima possibile Qua siamo risaliti completamente nell'acqua Però dietro casa Qua è dietro casa a tutti gli effetti Non vorrei adesso fosse nell'acqua perché non posso permettermi di fare un tunnel con il vetro Cioè perlomeno potrei farlo eh Potrei mettermi a scavare ancora un po' Però fidatevi di me Andiamo leggermente più avanti così risaliamo direttamente Eccoci qua che caspita è successo Dopo aver fatto questo mini tunnel Adesso risalendo dovremmo spuntare sotto la nostra base Immaginatevi una base in mezzo al mare Tutta ricoperta di vetro intorno Cioè creare un bioma sotto l'oceano Non parlare troppo steppi che sei il primo poi che abbandona tutti i progetti Che mette in ballo cose e poi non le fa Ci siamo Finalmente Ok esattamente sotto la base Ma nemmeno a farlo apposta Stavo per dire mettiamo un punto di riconoscimento per ritrovarlo Non è necessario guardate dove siamo Iniziamo a dividere per bene le cose Tipo la cobblestone Piazziamola subito tutta qua Tutte le cose che troviamo in miniera Mettiamole subito qua Tipo io ho detto che voglio fare un sacco di vetro E lo voglio fare veramente Quindi iniziamo poi a cucinare anche tutto quello che abbiamo Aspettate che recupero un po' di semini Che adesso espandiamo leggermente la nostra farm La vostra decisione era una kawasaki oppure steppi il decespugliatore Parte il sondaggio adesso nei commenti Ok basta Non mi sono mai allontanato così tanto da casa mia È giunta l'ora di tornare indietro Padron Frodo una volta superato il campo di pannocchie Non sarò mai stato così lontano dalla contea Beggins Molto bene Questi 48 ce li facciamo bastare per ora E andiamo dritti 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 Magari arriviamo fino all'isoletta Ah finalmente possiamo mangiare Ah che bello nuotare Farmare farmare Nuotare nuotare Farmare Finire tutto quello che avevi a disposizione Non siamo arrivati in fondo Magari non sarà neanche necessario Bozzappiamo tutto Tanto siamo diretti in mezzo all'acqua Che poi tra l'altro potrebbe essere a tutti gli effetti anche un ponte Che arriva fino laggiù in fondo Perché questo non si era irrigato Diamanti esplorazioni e piantagioni Abbiamo già il titolo del video Ne manca uno Ma dai Ma dai Riempiamo tutto quanto con i nostri semini Nel prossimo episodio vedrete quanto cibo avrò a disposizione Guardate qua Una distesa lunghissima Sto arrivando a casa piano piano Perché non posso correre Purtroppo Non abbiamo più cosciotte Dai Veloce Veloce che devo craftare i panini I miei primi panini Sì Cari amici Questo terzo episodio di oggi termina qua Abbiamo trovato una marea di cose interessanti Io spero che vi sia piaciuto Che vi siate divertiti Se accettano consigli su cosa vorreste vedere Nelle prossime puntate Nelle prossime appuntamenti Anche se di cose da fare Ne abbiamo una marea Mi raccomando spolliciate Commentate Iscrivete E attivate la campanellina Noi ci vediamo nel prossimo video Qua sempre Ah è già tutto sotto controllo A parte questo microfono Che cade in continuazione Dannazione